Un po' come, non mi scopo, non mi scopo, non mi scopo, non mi scopo, non mi scopo. Sono orologi partiti. Guarda di là, registrazioni tutte partite. Mi è partita da un quarto d'ora. Un po' a un po', un po'. Un po' a un po'. Un po'. Un po' a un po'. Un' registrazione delle camere, sono partite. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.